Buonasera a tutti innanzitutto e proprio un minuto, sarò brevissimo, volevo condividere con me e con voi insomma questa gioia di aver messo su in poco tempo il primo saggio ma più che saggio io lo chiamerei il concetto perché è musica e alla musica si addiene il concetto della Pontano Music Academy due parole per ringraziare di cuore una persona che ha voluto tanto questa accademia una sorta di evoluzione culturale e musicale all'interno di una scolarestia che in genere le scuole accorgono lezioni di musica ma non un'accademia di musica dove a mio parere i ragazzi hanno l'occasione, l'opportunità di fare e avere un divertimento importante ma non un bel divertimento, divertimento buon divertimento importante perché si divertono però portano a casa qualcosa portano a casa un'esperienza portano a casa il confronto con uno strumento musicale che spesso mette davanti a loro dei limiti da superare per questo è importante e noi siamo contenti perché io non mi aspettavo qualcuno di voi mi ha visto all'open day una partecipazione di questo tipo abbiamo avuto subito tanti iscritti non ce l'aspettavamo e soprattutto devo vorrei ringraziare e testimoniare diciamo con suo cuore una scolaresca che trovo vivace, intelligente e straordinariamente musicale cioè noi abbiamo trovato persone, ragazzi che già avevano una musicalità sviluppata e questo è una cosa bella non è così semplice, non è così normale trovare tutti questi ragazzi che già vivono con la musica e che vivono bene con la musica abbiamo avuto due mesi di tempo ci perdonerete abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e per questo ringrazio anche la direttrice del coro la maestra di canto, Beatrice Valente che insieme a me, come dire, abbiamo lavorato tantissimo in poco tempo e con grande passione, Beatrice e grande professionalità è riuscita a mettere su un coro, a dirigere, poi vedrete lascio, prima di lasciare la parola, perché noi abbiamo la presentatrice stasera che poi non la presento volevo ringraziare il portano, la preside, il direttore e soprattutto vorrei fare un applauso al presidente onorario dell'Accademia Music Portano Academy, Cicci dovrei anche ringraziare il nuovo, il nuovo, il nuovo che sta dietro il nuovo che sta dietro dell'Internet, Cicci, se chiedere tutte le scorciature un grande applauso e non ci lasciano mai vorrei ringraziare poi tutti i maestri e qui il maestro Paolo Bianconcini il maestro Petrenda, non lo vedo ma altri, ecco lo vedo e soprattutto non ci sono per i dispegni lavorativi e tutti gli altri chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno bene, come ogni spettacolo importante abbiamo una Shuker, una presentatrice che è anche poi una musicista le stesse tirattiche ve la presento Stoianca Cototo la nostra Stoianca lasciamo la parola a lei e vi auguriamo il nuovo concetto, grazie grazie buonasera signori e signori benvenuti al concetto della parella del portano ho l'onore di presentarvi il coro grazie 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 That see a wretch like me I once was lost but now am fine Was blind by night See Amazing grace How sweet the sound That see a wretch like me I once was lost but now am fine Was blind but now am fine I see Amazing grace How sweet the sound That see a wretch like me I once was lost but now am fine Was blind but now am fine Was grace that pulled my heart to Thee Embrace my fear Relieved I'll preach to Thee The grace I fear How I first believed That see a wretch like me I once was lost but now am fine I once was lost but now am fine I was blind but now am fine I was blind but now am fine I am fine but now am fine But now I am fine but now am fine Oh-os-blight but now am fine Was blind but now am fine but now am fine Grazie 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 E-a-v'ry-y-y! E-a-v'ry-day-y! E-a-v'ry-day-y! F rattling Oh-happy-day Oh-happy-day J-a-v'y-ay-ay Buon appetito! Grazie a tutti. 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 E poi, non so se avete notato, abbiamo fatto una bella scoperta serena, una voce incantevole e bravissima. E auguriamo a tutti e facciamo a tutti e due un grande saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' arrivato il momento di... è arrivato il momento di ristinuzione del mitico Giuseppe Cardarelli, che suonerà al camera di H. Gochino, di Alicia Christo, canta la bellissima Federica Lange. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.